Bro, ma questo videogame quanto costa? Intanto è un simulatore di guida e così costa sui 13.000 euro però si può spendere anche molto meno dipende dal pc, dipende dal volante dipende da tante cose Bro, ma spendi tutti quei soldi per giocare? Io lo uso per tenermi allenato per le gare vere Ma zio, potrei comprarti una macchina vera? E quale? Boh, una da pista, una che spacca bro! Intanto costa molto di più e poi questo lo uso anche quando non posso andare in pista Fratello, tanto guidare un'auto da corsa non è faticoso Ok